Gli ultimi appelli al voto negli Stati Uniti sembrerebbero aver dato i propri frutti. Obama, infatti, avrebbe 68 voti in più tra i grandi elettori rispetto al suo avversario Romney. Questo è quanto registra il sito specializzatore al crearpolitics.com e sempre secondo l'ultimo sondaggio del Washington Post, il presidente Obama sarebbe in vantaggio di tre punti rispetto al suo avversario. Queste elezioni non solo sono una scelta di politiche diverse, ma una scelta di fiducia, dichiara il presidente che invita gli elettori a ripercorrere la strada sicura degli ultimi quattro anni, aggiungendo ancora, le idee del governatore Romney le abbiamo provate e non hanno funzionato. Barack Obama, da Columbus in Ohio, ha lanciato i suoi ultimi appelli, ribadendo con forza che la lotta per l'America è la sua libertà per tirare fuori il paese dalla crisi e per dare lavoro agli americani che non dovrebbero combattere per averlo. In questi ultimi quattro anni abbiamo fatto molti progressi, progressi reali, ma resta ancora molto da fare. Per questo sto lottando, per avere il secondo mandato, continua Obama. Mitt Romney però non resta ad ascoltare e risponde dicendo ancora poco e l'America tornerà a ruggire. Io rappresento e rappresenterò un'intera nazione. Queste le ultime dichiarazioni da Stanford in Florida del candidato repubblicano alla Casa Bianca che accusa ancora l'attuale presidente Obama di avere idee vecchie ed invita gli elettori a vedere i risultati che ottenne quando era ancora governatore del Massachusetts. Salve a tutti e bentrovati con l'informazione di Unica Channel. Non succedeva nulla di scandaloso nelle cene di Arcore. Questo è quanto dichiarano in aula Daniela Santanchè e la sciogher Belen Rodriguez chiamate come test per la difesa dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che figura come imputato a Milano per il processo Rubi. Belen Rodriguez smentisce di aver passato una notte con il Cavaliere e dice ancora di non aver mai frequentato Arcore. Il processo comunque proseguirà lunedì con gli ex ministri Carfagna e Gelmini sempre in qualità di testi citati dalla difesa. Il ministro dell'istruzione Francesco Profumo ha partecipato a Borgaro Torinese alla consegna dei primi PC ai bambini di una seconda e terza elementare. Questo è il terzo anno che il Comune Torinese ha deciso di portare avanti il progetto che di fatto anticipa le direttive ministeriali in materia. È la prima scuola italiana, ha detto il ministro, che permette ai ragazzi di mettersi a sistema con la scuola e imparare in modo informatizzato. La Procura di Palermo ha siglato la richiesta di archiviazione dell'indagine per concorso in associazione mafiosa a carico del Presidente del Senato Renato Schifani. L'atto sarà a breve trasmesso al GIP. Questa era l'ultima notizia del nostro WebTG. A tutti voi un cordiale buongiorno.